Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Riparliamo, riparliamo di deck budget, come riprendere, come iniziare Sempre anche grazie a Fantasia, ma non solo Perché oltre ovviamente ai soliti strutture deck che andremo a vedere Che comunque sono utili per andare a riprendere Vedremo anche i deck migliori Sia per top, sia per livello di numero Perché comunque ci sono stati dei deck che anche numericamente hanno fatto diverse top Noi andremo a vedere qualche esempio Ovviamente è proprio l'archetipo del deck che consigliamo Poi c'è un esempio, ovviamente ognuno poi lo monta come preferisce Anche perché di profile ce ne sono tante 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 E anche grazie ai nostri report metagame a voglia te e profile di questi deck Quindi a voglia te Prima di iniziare, come sempre ragazzi, invito a iscrivervi a suonare E rimane sempre aggiornati Vi ricordo che l'iscrizione c'era una mano incredibile Noi vi ringraziamo Link Fantasia sarà in descrizione Per ordinare magari tutti gli structure deck che vi faremo vedere Come sempre codice sconto E link, passando tramite il link Aiutate tantissimo il nostro canale E io vi ringrazio anche di questo Allora, e partiamo Subito, Reame della Luce Allora, perché Reame della Luce? Potrebbe essere un inizio interessante Perché comunque l'Iseworn è un archetipo molto molto forte Soprattutto con i nuovi supporti che arriveranno Ovvio Shifter e Crawley Però, insomma, lo structure deck comprende tutti l'Iseworn Non fondamentalmente Manca qualcuno Come Felis Però non è un grande problema Sono carte che comunque si rimediano facilmente Quindi si va tranquilli Poi con Legacy of Destruction Arrivano dei supporti veramente forti Perché consigliamo l'Iseworn? Perché potenzialmente è un mazzo fattibile Anche le carte che dovranno uscire da Legacy of Destruction Secondo me Sono forti Ma possono essere fattibili Anche in rate Ovviamente bisogna ancora vedere Al momento della registrazione Ancora bisogna vedere le rarità Però secondo me rimediare si rimediano Almeno questo è il mio pensiero Qualora diventassero infattibili Eh Diventa un po' più complicata la cosa Lo consigliamo perché fondamentalmente L'Iseworn è un mazzo che Parti primo Parti secondo Riesce sia a partire primo Che a partire secondo Perché può fare un sacco di roba Può fare un sacco di roba E anche con una versione veramente casareccia Ti riesce a fare il mondo Quindi l'Iseworn C'ha un potenziale incredibile Ovviamente Fire King Tra l'altro lo ristamperanno Quindi Molto buono Bisogna stare attenti più che altro Alla Banded per Snake Eye Perché potrebbero andare a colpire Fire King Per non colpire Snake Eye Secondo me non colpiscono nessuno di due Però insomma Con la poi La Princess quella nuova Con la Fire King Quella nuova Che è uscita in Giappone Il mazzo Già d'archetipo suo Un mazzo puro È forte Diventa forte Quella Dà un bel po' di Inverve Anche se magari Deve giocare Il Garonex quello vecchio Però non diventa una pesantezza così enorme Sennò può essere giocato anche con Dogmatica Può essere giocato con Tribri Che del mazzo comunque È veramente forte Ed è veramente valido Poi come sempre Il mazzo è valido Poi usciranno Altri supporti Sempre per lui Quindi Attenzione Perché c'è quel demonietto Che uscirà Che è molto interessante Ora non mi ricordo Da quale espansione esce Può essere che da noi Che arriva in Battle of Legends È un extender Mi pare L'effetto era forte Ma ora come ora Non mi ricordo benissimo Comunque arriveranno Di piccoli supporti Anche per The Crimson King Secondo me Bisogna Magari Tenerlo d'occhio Tenerlo d'occhio Magari Ripeto Non è più forte di questi qua Però Il suo potrebbe farlo Traptrix Traptrix Rimane sempre Col mazzo Interessante Abbastanza completo Che può essere mischiato Anche con nuovi supporti Laika Che potrebbero dargli Un plus Molto molto interessante Sia di forza Che magari Di riciclo risorse Sia di evocazione Può essere molto interessante Già di per sé Comunque Il 3x Diciamo che è un Traptrix puro Completo Quindi Molto buono Può partire primo Può partire secondo Ovviamente Con le modifiche del caso Diventa più forte Poi in base A come gira il meta Si può un pochino adattare Quindi veramente buono E appunto Per i supporti Pianta Che arriveranno Perché Pure questi Potenzialmente Sono forti Potenzialmente Sono molto forti E adesso Andiamo a vedere I deck Che I deck Che più Stanno facendo Bene Che magari Noi consigliamo Allora Stun runic Questo in realtà Si può trovare Anche a di meno Ovviamente Questa è una È una Profile Tanto per farvi vedere Comunque il mazzo Che è comunque Tutto runic Che si basa anche su Amanewato Che va a stannare Incredibilmente Anche partendo secondo Fa le sue cose Ci sono tantissime top Questo è un secondo posto Ci sono tantissime top Nei regionali di runic Che comunque È facilmente trovabile Anche nei team È diventato Mai un deck budget L'unica carta Che costa Tra virgolette A lei Quindi diciamo Diventa abbastanza fattibile Lei quanto sta Costa più niente Manco hugin Quindi veramente Veramente Il mazzo Che è diventato fattibile Non solo come Stun runic Ma vediamo Anche dopo Come si può adattare Perché ci stanno Tantissime Tantissime Profile di runic Mischiato ad altro Io vado a vedervi Quella Più budget di tutte Che in realtà È anche la più interessante Perché io l'ho ripetuto Diverse volte Che quel deck Secondo me Poteva essere interessante Dinomorfia Che gli è preso Un surplus enorme E vince Via Secondo posto Top ovunque È pieno di dinomorfia È pieno di dinomorfia Un mazzo veramente forte Questo gioca Con la versione Kinga Zark Potete anche Non giocarla In realtà La versione Zark Però il mazzo Già di per sé È forte Poi La cosa buona È che le trappole Vanno a bloccare I danni Vanno a bloccare Determi danni O da effetto O da battaglia Il che è enorme Perché Quando Snake Eye Vuole ottikapparti Non ti ottikappa Anche con I danni da effetto Degli avokage dragon Tutto quanto Quei 500 di danno Non li prendete Che con tutto Che avete poche life points Non perdete Quindi è veramente ottimo Anche questo Riperibile Tutto il resto Magari l'iron thunder Che è quello che costa di più Sì Però diciamo Che è molto fattibile Ristampano anche giudizio Ecco Qui non l'ho messo pure lì Perché al momento Costa un po' Però anche pure lì Con la Rarity collection 2 Occhio anche a pure lì Occhio anche a pure lì Perché potrebbe diventare Uno dei mazzi più forti Che Budget Che ci sono Oltre a un altro Che andremo a vedere dopo Anche Marincess Tante top Tanti secondi posti Tanti top 4 Top 8 Ovunque Marincess Ovunque Magari è carato un pochino Di radio Di presenza Però rimane comunque Un mazzo molto molto forte Che si permette L'ho detto tante volte Tributa anche per costo Costi Musti dell'opo Che si fa anche Da diapo Cioè Veramente incredibile No ho detto così tante volte Tributavo Però in realtà Non è Marincess Mi pare che era Di casa all'avano Che tributavo Ho fatto un mashup Incredibile No scusate È a Roma Che dopo andremo a vedere Perché mi sto rincoglionando È a Roma Che va a tributare Mosti dell'opo Comunque Marincess C'ha A parte che c'ha gli extender C'ha i modi Di renderti i mostri immuni C'ha i modi Di pararti E fare negate Ha comunque Tante risorse E puoi andare anche A giocare di ht Dalla mano Tranquillamente Quindi ecco Io una carta Metterei anche Un lullato bianco Perché mi pare Che un lullato bianco È molto molto interessante Poi atticappare Anche di Zeylantis Che insomma Voglio dire Tra l'altro Si permette di poter giocare Anche TTT E Forbidden Droplet Che occhio Potrebbero ritornare Molto molto rilevanti Nel meta Quindi Ed ecco quello Che tributa Ovviamente Ovviamente Come Cosimo Si rilopo E fa da Diablo Anche questa versione Ovviamente Presa da esempio Ce ne stanno tantissime Questa è arrivata Top 8 L'ultimo Regional Mi pare E Forbidden Tra l'altro Anche questo qui Può prendere I supporti Ovviamente Da Raika Vediamo Come verranno Mischiate le cose Anche Appunto Tra l'altro A Roma A Roma Con tutto Che ci ha preso Le hit Zitto Zitto E È diminuito Anche questo Un pochino Di rate Però riesce Comunque A fare Tante cose Quindi Molto molto Interessante Nel che Ti tributa Per costo Per costo I mostri Anche i mostri Lopo Quindi Occhio Occhio È un altro mazzo Che noi consigliamo Altamente Chi Anche questo Per riprendere Non ricominciare Ragazzi Hero Forse Hero Penso sia quello Migliore Per riprendere Perché Va A Ripigliare Gli eroi Che comunque Gli eroi Sono molto Molto Diciamo Famosi Tra le vecchie Leve Con Un comparto Eroi Veramente Enorme Che ti consente Di avere Un extra Deck Forte Perché Comunque Puoi contare Su carte A parte pure Sito Sito Wake up Veramente Molto Molto Forte Veramente Un sacco Forte Quindi Occhio Sottolodare Anche lui Perché Comunque Una carta Fondamentale Che non Costa Neanche Troppo Come 23 Come Cardback 5 euro TCG Player 23 Ma Fatto Mende Corpo Comunque No Dovrebbe Costare Relativamente Poco Comunque È un comparto Extra Deck Veramente Forte Le carte Sono state Praticamente Tutte Ristampate E Poi Come Dico Sempre DPE Dark Low Tanta Roba E Vai Riprendere Qualche Role Mentale Vai Riprendere Qualche Role Del Destino Plasma Dark Angel Incredibile Mask Change Un eroe Sopravvive Fusion Destiny Il mazzo È forte Il mazzo È forte Costa Poco È un Ritorno Alle Vecchie Origini Per Chi Riprende Veramente Tanta Roba Poi Anche Red Raptor Un altro Mazzo Veramente Molto Molto Interessante Forte Però Anche La Versione Un po' Più Budget Magari È Meno Performante Ma Comunque Rimane Un'ottima Soluzione Veramente Solida Perché Comunque Hai Modo Di Garatti Le Indipendentemente Dal Fattore Ovviamente Snake Eye Bonfire Tutto Il resto Perché Comunque Il mazzo È interessante E Va a fare Tante Tante Interruzioni Che Comunque Possono Essere Gravissime Perché Le trappole Comunque Non sottolineiamo Le trappole Di runic Di runic Di rescue Ace Perché Saranno Un po' Più Rilevanti Non riesco Più a Parlare Nel meta Che arriverà Quindi Facciamo Veramente Attenzione Perché Potrebbero Essere Delle Carte Trappola Che Vanno A risolvere Un po' Di cose Quindi Facciamo Molta Attenzione Tra l'altro Cosa Molto Interessante Soprattutto Questa L'ultima Build Perché Puoi Comunque Attivare Roba Settata Grazie A Idrante Però Nel senso È Paralizza Un po' Perché Comunque Tu devi Settare Prima Le carte Per Attivarle Rescue Ace Con Idrante Va un po' A depotenziare Questa cosa Diabels Comunque È una carta Che Credo Che Sarà Molto Complicata Ma Non Così Opprimente Però Comunque Sarà Una Carta Veramente Brutta E Diciamo Già Rescue Ace Con Il fatto Che Si Set Può Attivare Tutto E Di Più È Veramente Forte Nella Speranza Che Qualora Venga Un po' Limitato Snake Eye Torni Un po' Fuori Rescue Ace Comunque Il Mazzo È Veramente Buono Anche Questo Costa Veramente Poco E Io Direi Di Veramente Tenerlo D'occhio Assolutamente Quindi Rescue Ace E Poi Vabbè Flowlanderys È Cazzo Vodica Flowlanderys È Praticamente La Base Perché È Uno Dei Più Forti Che Ci Sia E Quindi Flowlanderys Non è Che C'ha Tanto Da Spiegare È Forte Anche Perché Magari Se Ci Sono Tante Build Se Tu Vuoi Sfruttare Più Le Build In Cui Ti Mandi La Roba Dell'Extra Deca Al Civitaro Lo Puoi Fare Puoi Andare A Bloccare Anche Le Special Infine Se Puoi Fare Delle Versioni Un po' Suzze Però Comunque Il Mazzo Non soffre Shifter Lo Gioga Di Mena Addirittura Fa Tante Normal Il Che È Molto Buono Il Fatto Di Fare Normal Tante Normal Ti Consente Di Avere Comunque Un Passo In Più Abbia Roba Tipo Non Può Evocare Special Medi Il Mazzo È Forte Lo Sappiamo Queste Bessiolina Alate Insomma Costo Basso Potenziale Sempre Enorme Ci hanno Anche Delle Carte Per Non Venire Otticappati Va Benissimo Quindi Queste Erano Un po' Di Soluzioni Per Riprendere O Ricominciare Comunque A giocare Secondo Me Sono Tutti Deck Molto Interessanti Ad Derunic È Pazzesco Ma Anche Quello Di Grinomorfia Nei Nei Vari Regionali Anche Roma Ovviamente Ne sono Tanti Io Un pochino Di Meno Redraptor Stanno Avanzando Un bel Po Quindi Mainz S Meno Di Tutti Ultimamente Però Comunque Sono Sempre Soluzioni Molto Molto Forti Che Comunque Abbiamo Visto In Tutti I Report Quindi Sono Carte Sono Deck Da Considerare Assolutamente Top Deck Abbiamo Come abbiamo Visto Fire King Che Comunque Può Essere Buildato In Versi Le Budget E Può Essere Molto Forte Tra Tricks In realtà Può Dire Tranquillamente La Su Anche In Tornei Forti Quindi Molto Buono Magari Game So Quello Poghino Meno Forte Però Insomma Ha Delle Potenzialità Detto Questo Ragazzi Fatemi Sapere Voi Cosa Pensate Ovviamente Noi Come sempre Ci vediamo Nel prossimo Video E Un Saluto A Tutti